Cara Carlotta, non sai come mi fai felice di aver preso questa chiamata e di fare in qualche modo raccontare la tua storia. Come ho detto prima, questa idea è venuta in mente perché siamo in un momento veramente dove la gente continua a parlare dei morti, delle cose negative, e la realtà è che ho voluto fare mettere sulla testa della gente un'altra perspettiva. Cosa posso fare più bello che parlare col mio network è far vedere la gente bravissima e tutti questi leader verso il mondo che alla fine hanno lavorato molto forte e hanno fatto delle cose interessanti nella sua vita, ma anche quello che mi piace di più è far vedere che alla fine tutti i leaders hanno in comune un sacco di cose. Allora, quello che vorrei fare è cominciare nel primo momento raccontami dove sei nata, il paese qua e là, come hai fatto il brinco dall'Italia per finire dopo sopra il WFD, Westminster Foundation for Democracy immaginati a Londra. Insomma, è stato spettacolare il tuo tragetto e tutto quel lavoro che fai anche per l'Africa e per Latino America. Allora, cominciamo dall'inizio, cara Carlotta, dimmi la tua storia. Ciao Riccardo, è un piacere per me unirmi a questa splendida iniziativa che ho conosciuto e apprezzato nelle tue chiamate precedenti con persone, diciamo, con qualche annetto di esperienza in più perché mi considero ancora una giovane e relativamente inesperta. Come si sente dall'accento, io sono originario della Toscana ma da quattro anni ormai quasi cinque residenti a Londra. Sono appunto nata e cresciuta in Toscana, ho studiato in Italia, scuola pubblica però sempre, devo dire, ho avuto il sogno di trasferirmi in Inghilterra. Ah wow, da piccola, avete quell'idea da piccola? Sì, sono uno di quei tipici piccoli italiani che con lo zainetto hanno preso l'aereo quando avevano undici, dodici anni, sono andati a studiare l'inglese. Io mi ricordo ancora, la prima volta che ho visto il palazzo del Parlamento a Westminster sono rimasta proprio innamorata e ho detto io un giorno qui ci lavorerò. E alla fine sono tornata a lavorare. Ma aspetta un momento, quelle sono le cose che fanno i leaders? Da piccoli hanno quei big dreams, hanno quell'idea di fare una cosa spettacolare. Alla fine fanno la sua vita per trovare il modo di arrivare a quel punto lì. Ma devo dirti la verità, io ci sono arrivata a lavorare a Westminster e con il Partito Conservatore Inglese un po' per caso. Perché io, tutto sommato, mi considero ancora un po' un'accademica. Io mi considero un po' una studiosa. Ho fatto il mio dottorato in Italia occupandomi di diritto comparato costituzionale. Ma prima, cosa hai studiato prima? Qual è stata la tua correra? Io ho studiato giurisprudenza. Di nuovo, proprio caso classico, ho fatto il liceo classico, ho fatto giurisprudenza con genitori che volevano che diventassi avvocato, giudice, notaio. E si sono ritrovati una che va in giro per il mondo a supportare i partiti e a supportare la democrazia. Loro non avrebbero immaginato nulla del genere se fosse giurisprudenza. È matta questa, è matta. Quindi, ho fatto giurisprudenza. Poi, volendo fare ricerca, ho fatto il dottorato alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Mi sono occupata, nello specifico, dei partiti indipendentisti e mi sono occupata soprattutto della Scozia e della Catalogna. Infatti, il mio primo, diciamo, il mio primo soggiorno estero è stato a Edimburgo per un periodo di ricerca. Finito quello, è finito il dottorato, ho fatto l'esame d'avvocato. Ma lì che hai fatto il link con i partiti politici per quello che... È stato dopo, perché io sono tornata in Italia, ho fatto l'esame d'avvocato perché andava fatto. Se no, i miei mi avrebbero ucciso se non facevo l'esame d'avvocato. Mi sono presa il pezzo di carta e il giorno dopo ho ottenuto una borsa con l'Università di Edimburgo, un postdoc, per un anno. Io sono andata a lavorare su un progetto dopo il referendum costituzionale in Scozia. E lì ho iniziato, di fatto, a lavorare con il Parlamento scozzese e con i partiti. Però erano i partiti non di centro-destra, era lo Scottish National Party. Wow! Però, di fatto, io ho continuato a tenere, diciamo, ho scoperto diversi siti dell'inglese, dove trovare opportunità di lavoro e quant'altro. E c'è stato, appunto, nell'ultimo mese del mio contratto, c'era un opening al Partito Conservatore inglese. E io ho detto, sai che c'è? Ci provo. Ci proviamo, dai, mandiamo la domanda. Mi hanno chiamato. Come compiti? Primo colloquio col telefono. Poi mi hanno invitato ad andare a Londra a fare un colloquio. Era il 17 di dicembre, me lo ricordo ancora. Da mattina a sera, Edimburgo-Londra, Londra-Edimburgo. E poi, niente, il 21 dicembre, mentre stavo andando all'aeroporto, ti hanno chiamato, ti hanno chiamato il mio ex boss per dirmi che avevo avuto il posto di lavoro al Partito Conservatore inglese. Che meraviglia! Wow! Questo è, diciamo, quello che mi ha conquistato del mondo anglosassone. In Italia questo non succederebbe mai, che il partito fa un public advertisement. Sì, e dopo prende un estraniero. E vai, fai il colloquio e niente, hanno preso me. Incredibile. Che sinceramente, fino a quel momento non avevo ancora nemmeno la membership del partito. Cioè, in Edimburgo non mi sarei mai posto. Ma parla molto bene del Partito Conservatore. Esatto. Sono rimasta sorpresa da questa procedura così trasparente. Cioè, giovane, donna, non inglese. Bah, cioè, sulla carta erano tutte cose che pensavo mi avrebbero sfavorito. Ma ancora ho il dubbio, perché una ragazzina di 11 anni in quel bellissimo paese aveva quel sonne in America, in Londra, qualsiasi cosa. Perché specificamente? Io ti dico, non è stata una cosa razionale. Io mi ricordo l'emozione che ho provato quando sono andata dentro Westminster Hall. Ah, è stato dopo. Allora, è stato dopo che sei stata in quel building lì? Sì, ho visitato il Parlamento. Ah, ho capito. Adesso ho capito. Oso, sei andata tu a visita e hai visto quel palazzo lì e hai detto, wow, qualche giorno... Sì, sapevo appunto della storia del Parlamento inglese, però un punto a leggerla nel Libro è un punto è... Cioè, quando ti trovi in questo... Ma io tuttora oggi, io quando vado a portare i miei delegati o a incontri con i miei colleghi parlamentari, io ancora... Una domanda, Carlotta. È quello il posto dove sono andato anch'io a parlare di Freedom? Esatto. No, no, io devo raccontare questa storia perché è incredibile. La mia cara Carlotta mi fa l'invito per presentare Freedom, il Parlamento, sai, britannico, incredibile, quel palazzo lì, che è proprio in fronte al Big Ben. E la realtà, come io sono un po' un disastro in quelle cose lì, io vado sempre lo stesso con la mia malia nera. Non so, sono arrivato lì e mi ha detto questo è l'indirizzo e la realtà non è che ho fatto un Google per trovare qualsiasi del posto. vado ad un ufficio del partito conservatore e basta. Quando l'Uber si ferma in fronte al palazzo, dico, ma cosa fai lei? No, no, è qua. Ma qua dove? Siamo in mezzo al palazzo. È lì proprio. Io non mi potevo credere che era dentro e io era così, con la magliettina nera, ti ricordi? Con le scarpe bianche di sport, andavo dentro, mi ricordo che era così spettacolare, tutti i legni, i pisi di legna, le porte spettacolari, tutto, una cosa dall'altro mondo, veramente. Mi ha fatto appunto la presentazione in quella che è una delle committee rooms, per cui dove normalmente i parlamentari siedono quando fanno, quando hanno divisi in comitati per analizzare le leggi e tu hai fatto la presentazione di Freedom in quella stanza. No, no, con quei pinture antiche e io con questa disgraziata camicina nera. No, 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 è incredibile. E non cambio ancora con la stessa. Ma veramente, è veramente, per me Londra, anche per la mia moglie, è un posto spettacolare. Io vorrei in qualche punto nella mia vita avere un appartamento in Inglaterra perché è così bello. le macchine, il bus, è tutto, la cultura, tutti d'Italia, è molto come noi, anche come si parla inglese, alla fine è più facile dagli Stati Uniti andare là e mi sembra un po' più facile, anche l'Italia, non diciamo l'Italia perché il nostro cuore è là, ma diciamo che un altro paese in Europa che veramente chiama la mia attenzione sempre è stato Londra, che è veramente bellissimo. Ma continuiamo con la tua storia. Allora, se l'hai fatto, è questa la posizione in quel momento lì, nel partito? Sì, ero Outreach Manager, per cui era un momento in cui il Dipartimento Internazionale del Partito, che si occupa appunto delle relazioni del partito con gli altri partiti di centro-destra a livello europeo, a livello internazionale, era unito al Dipartimento di Outreach, che si occupa nello specifico dell'engagement con diversi gruppi a livello dell'Inghilterra, soprattutto appunto con gruppi rappresentanti di diverse nazionalità, gruppi oltre rappresentanti di diverse tematiche, per esempio in connessione con la Women's Wing o anche in connessione con la componente Rainbow LGBT che dentro il partito ha comunque il suo gruppo di rappresentanza. E c'era ancora Filippa, la nostra amica Filippa? No, c'era Colin Bloom. Ah, Colin Bloom, ok, ho capito, ho capito. Per cui appunto ho iniziato, ho iniziato scoprendo un mondo, perché di fatto non immaginavo che esistesse il mondo delle relazioni paradiplomatiche tra i partiti tramite appunto i gruppi europei, sì, ma non conoscevo l'esistenza di organizzazioni come IBU, Upla e tutte le altre organizzazioni come la Democrat Union of Africa, IWDU, l'IYDU, cioè un mondo che per me era sconosciuto e devo dire che i primi sei mesi durante il mio probation period ero persa ma anche un po' affascinatissima da questo mondo perché entravi in contatto con personalità politiche che erano accessibili, erano persone con cui parlavo al telefono e erano membri del Parlamento, ex primi ministri, per cui, cioè, era come quando vedi per strada un po' la personalità che vedi sullo schermo. È vero, è vero. Ma finisci lavorando con lui. Posso chiederti un autografo? È vero, è anche vero quello che hai detto di IBU e Upla e queste organizzazioni che alla fine diventano non soltanto sono super, super, super capi, ma anche sono molto amici, è come una famiglia. Mi ricordo la ultima volta che siamo stati là a Manchester, che c'era tantissima gente anche di IBU che alla fine quel tavolo lungo, non se ti ricordi, nell'hotel, è bellissimo perché la gente, c'era il presidente di Bosnia, gente di Macedonia, ma sono cari amici perché alla fine le vedi tre milioni di volte all'anno in diversi eventi e diventano amiche. E come hai detto tu, sono persone molto importanti in ogni paese. Esatto, io tuttora appunto non ci credo. Io ho queste persone sul mio Facebook, cioè queste persone sono quelle che il giorno del mio compagno mi mandano gli auguri su Facebook. Quella ragazzina di Firenze! Esatto, io resto ancora incredula quando vedo gli auguri di compagno. Sì, e raccontami un po' tutto quello che stai facendo in Africa, che è incredibile anche. Facciamo prima Latino America. Sì, allora, con il Partito Conservatore, tramite, devo dire, il supporto della Fondazione Westminster, perché non se ne parla abbastanza a livello internazionale. A livello internazionale tutti quanti conoscono NDI, IRI, Conrad Adenauer. La Fondazione Westminster è ancora poco conosciuta, però è l'organizzazione inglese del settore della parliamentary and democracy strengthening, che è l'organizzazione inglese. È il simbolo dello sviluppo inglese e si collega con tutto quello che viene fatto incredibile da UK Aid, dal Foreign Office. Per cui, pur essendo una fondazione ancora non conosciuta dai più, è incredibile e supporta tutto il lavoro che i partiti inglesi, per cui non soltanto il Partito Conservatore, ma anche il Labour, lo Scottish, National Party, Lib Dem e quanti altri, fanno... Sì, tutto quello che il Commonwealth antes, prima, per esempio, il lavoro che fate anche a Centro America, Belize, è incredibile, non è poco quello che fate. E sostanzialmente, appunto, è un modo diverso di lavorare, perché la fondazione lavora tramite i partiti politici, è un po' la peculiarità del modello inglese, che le altre fondazioni in un certo senso non hanno. È la caratteristica principale del fatto che i partiti sono integrati all'interno della fondazione e il lavoro fatto con i sister party rientra in quello che poi è il grande disegno del lavoro che la fondazione fa tramite i diversi fondi che riceve. Ovviamente, appunto, via il lavoro con i partiti politici, per cui con organizzazioni che noi conosciamo, sono splendide organizzazioni, ma anche sono spesso organizzate dalla mancanza di competenze tecniche, a volte dalla mancanza, anche di una propria struttura e di un organigramma che le faccia funzionare. Per cui, spesso e volentieri, quello che viene svolto è di fatto uno scambio di best practice da diversi partiti, perché sì, certo, il Partito Conservatorio è uno dei più longevi e con una storia sulle spalle incredibile. Però nel contempo, lavorando in Africa, ti dico la verità, io sono rimasta sorpresa dal vedere come certi partiti africani hanno una struttura incredibile e capillare sul territorio, grazie al fatto di avere così tanti supporters nella fascia della gioventù. Perché se noi guardiamo qui in Inghilterra, quelli che sono fuori a fare campagna non sono i giovani, sono le persone di ultra sessantenni. In Africa, io devo dirti che è fantastico vedere come di fatto siano i giovani, cioè sono quelli intorno ai vent'anni che sono fuori a fare campagna elettorale. E soprattutto la cosa più bella, secondo me, è che la politica in Africa, ma anche nei Caraibi, viene vissuta come... ha un elemento più gioioso. Cioè, se te pensi soltanto come i rally politici, io in Inghilterra il rally politico non esiste come concetto. Non... è una cosa, per esempio, in America voi avete più il concetto del rally politico. Quindi in Inghilterra non vengono mai fatti. E io sono andata nei Caraibi e vedere il primo ministro che durante il rally politico sale sul palco e balla insieme ai suoi supporters, per me... a me è riempito il cuore, perché era veramente una festa, era... cioè, il senso di unione, il senso... quando percepisci la membership di un partito. Cos'è che un partito lo mantiene in vita? Il fatto di avere una membership viva. E quello lo percepisci perché vedi veramente i giovani, vedi l'energia, vedi l'entusiasmo. No, ma è vero quello che hai detto, perché infatti io vi conosco a WFD perché ero in Africa, in Ghana, presentando al presidente la nostra applicazione e come hai detto tu, c'era gente giovane nel partito, ma subito, che all'ha piaciuto, hanno chiamato e mi hanno detto devi parlare con i nostri partner del WFD, del Westminster Foundation for Democracy, perché loro aiutano a noi. O sea, alla fine, quello che sta facendo anche WFD è un lavoro molto interessante di support, di farli vedere a diversi paesi che non hanno, può darsi tanta informazione, cosa va bene, cosa non va bene. O sea, in some way, in qualche modo, stanno... la Foundation, no? In Londra, aiuta a tanti partiti che hanno, può essere che hanno l'energia, può essere che hanno tutto questo entusiasmo, ma quel legacy che c'è nel partito conservatore, in Westminster Foundation, secondo me è una cosa che apporta moltissimo valore. Per lo meno mi hanno fatto vedere lì, è lì che ho conosciuto a... come si chiamava questo qua che era verso l'Africa? George, George si chiamava, ti ricordi? George Cunnat, yes. George Cunnat, una bellissima persona. Adesso dov'è? E non è più nel... Adesso lui sta lavorando per un'altra fondazione, non si occupa di relazioni internazionali, però si occupa di learning, per cui è sempre nella parte comunque del knowledge exchange e quant'altro. Sì, la verità è che è una combinazione, io ho rimasto in love con quello che fate, infatti mi ricordo che voi ogni tanto dovete andare ai paesi a fare una cosa e l'altra, e con la nostra applicazione potrebbe essere una cosa che va moltissimo più forte e continuate da Londra a mandare informazioni, a crescere quel gruppo lì. Allora, mi sembra che ci sono tante opportunità alla fine, ma continuo. Allora, in Latino America anche fate un sacco di cose, no Carlotta? Sì, sì, abbiamo lavorato veramente tanto con Upla, va detto che Upla ha un sec gen che è fantastico, Nico Figari è veramente una forza della natura, e soprattutto la cosa positiva è che per quanto riguarda Upla non abbiamo mai vissuto questa sorta di competizione tra fondazioni, cioè c'è Hans Haedel coinvolta, ci sono altre fondazioni coinvolte, però non abbiamo mai avuto questa sorta di corsa ad accaparrarsi, dire questa è mia, c'è la mia bandierina, no, veramente, cioè io mi ricordo quando sono stata, quando era due anni fa in Cile a un evento Upla, e c'erano tutte le fondazioni e di fatto è un bel momento, perché veramente ognuno lavorando su temi specifici abbiamo contribuito tantissimo. E nello specifico appunto abbiamo lavorato tanto con la Redella Mueres, per cui il network delle donne Upla, che devo dire io resto ancora sempre più sbalordita da quanto sono piene di energia. Hanno di solito delle famiglie enormi, sono bellissime, sono attivissime in Parlamento, e poi trovano anche il tempo di dedicarsi a questo network e veramente a lanciare delle campagne molto forti, soprattutto per quanto riguarda la violenza contro le donne attive politicamente, perché veramente in Latino America questo rimane uno dei temi principali, dove ancora c'è una violenza, non soltanto la violenza da tastiera degli haters, ma veramente la violenza fisica, per cui c'è un specifico targeting delle donne. Incredibile. E il network si è impegnato tantissimo e veramente hanno proposto cambiamenti a codici penali, cambiamenti alla legislazione di alcuni paesi, per cui sono veramente incredibili. Carlotta, adesso comincio con le domande. Allora, non so che se sei una donna, non si chiedono le donne, ma devo farle per leader. Che età, quanti anni hai? Quasi 35, 35 ad agosto. Fantastico tutte quelle cose che hai fatto così giovane. Un'altra domanda. Tu ricordi quando è stata la prima volta che hai fatto soldi? Una lira, due lire, qualsiasi cosa. Che anni avevi? Avevo 21 anni e lavoravo al negozio di fumetti a Pisa come part-time. Fantastico, fantastico. E il primo imprendimento o il primo evento sociale o qualsiasi cosa che hai fatto, come se fosse un imprendimento, può essere sociale o può essere di business? Devo dire che per me è stato molto importante il Rotary. I miei sono membri del Rotary e io ho partecipato a questo network del Interact Rotaract, che è il RILA, come rappresentante del mio distretto, del centro Italia. E per me quello è stata veramente una grandissima esperienza a livello sociale. Abbiamo incontrato imprenditori, personalità del settore privato, imparato molto di più nel senso della comunicazione. Per cui veramente avevo 23 anni e era ancora una che stava a scuola. Per cui quello è stato il primo grande contatto con la socialità, il networking e il privacy. E il tuo più grande successo? Il mio più grande successo? Accipicchia, questo è difficile. Probabilmente, devo dire, di essere riuscita tramite questi progetti a cambiare la vita di alcune persone. Parlo nello specifico di ragazzi giovani, perché tanti di loro appunto hanno vissuto esperienze incredibili, venuti a Londra, aver avuto l'occasione di parlare con membri del Parlamento inglese. Un'ispirazione bestiale. Loro hanno fatto un tour al numero 10 di Downing Street, è incontrato il political secretary della nostra precedente prima ministra Teresa May. E veramente, puoi vedere come questi siano i momenti che sono l'ispirazione e cambiano la vita alle persone. 100%. Per il mio lavoro, aver fatto un piccolo cambiamento nella vita di alcune persone. Bellissimo, Carlotta. E qual è stato il meglio, la cosa che è andata peggio nella tua vita, diciamo? Andata peggio? Direi il fatto che vivo lontana dalla mia famiglia, vivo lontana dai miei amici. E' vero, quello è duro. In fin dei conti, è una vita stupenda, ho avuto tantissime opportunità, però ho dovuto sacrificare un po' gli affetti e i miei genitori stanno diventando anziani e ovviamente con tutta la situazione mondiale che c'è adesso io sono preoccupata per loro. E sono qui e non posso tornare in Italia. È logico, è logico. Hai un monto di soldi per fermare a lavorare o non fermerai mai? Fermerò mai. Io non faccio questo per i soldi, veramente lo faccio perché mi piace. Come dicono tanti, sembra una banalità, però quando trovi un lavoro che ti piace, ti sembra quasi... Non è più lavoro. Non è più lavoro, è un hobby, è vero. E qual è stato il miglior consiglio che ti hanno dato? Il miglior consiglio è... Quello di non aver paura di provare, di... Prova. La cosa peggiora... Cosa può succedere? Io ho provato, ho fatto domanda con l'application, ho provato di nuovo con l'application per diventare la direttrice del dipartimento. Continuerò a provare per costruire la mia carriera. Sai che è così vero che due anni fa a Harvard le ho chiesto al professore di admissione, e le ho detto, guarda, è difficile entrare qua per una persona. Mi ha detto, il peggio problema che abbiamo è che la gente pensa che non ce la fa e non prova. Ma la università è fatta. Abbiamo più soldi che nessun'altra università nel mondo. Allora, se tu sei un ragazzo che veramente meriti lavorare e studiare qua, ce la farai. Soltanto devi provare. Ma se non fai i test, se non vieni, non sappiamo mai che sei lì. Ma allora quello che hai detto è molto vero. Un'altra cosa, Carlotta, ispirazione o una leggenda che segui o che sempre nella tua vita hai avuto lì? C'è qualcuno? Di nuovo, devo dire che la mia mamma, quella, la fonte di ispirazione, è stata quella che, di nuovo, a 11 anni mi ha messo sull'aereo, benché io piangessi e benché tutte le sere chiamassi in Italia piangendo. Voglio tornare a casa. È stata quella che mi ha fatto prendere, partire, imparare una lingua. Benché i miei genitori parlino solo italiano, non sono, e non sono globetrotter e loro viaggiano solo in macchina, odiano volare. Guarda come ti ha cambiato la vita, quel momento lì della tua mamma. Una domanda è quanto tempo sei stata in England? Osa un anno? No, sono stata due settimane, sai, le tipiche summer school. Ok, ho capito, ho capito. Sono stata in un piccolo sobborgo fuori Londra e partita con l'influenza, con la febbre alta, è lì che però ho dovuto imparare l'inglese, perché se no ero da sola nel college con tutti quanti che parlavano inglese e nessuno riusciva a portarmi un'aspirina, per cui ce l'hai fatto. Ok, quanti giorni fai esattizio? Aleni? Devo dire la verità, io sono una perigrona, però io cerco sempre di farmi almeno una mezz'ora di passeggiata. C'ho il parco vicino casa, mi rilassa, mi ascolto la mia musica, è il momento in cui svuoto la mente e mi rilasso. Mangi sano? Mangio mediterraneo, devo dire, benché in Inghilterra, io alla mia cucina mediterranea con l'olio di oliva e il pomodoro non ci riusci. Vai bene, vai bene. A che ora vai a letto? Presto, vado a letto tra le dieci e mezza e le undici. E a che ora ti alzi? Verso le sette. Hai qualche weekend routine? Qualcosa che fai particolare durante il fine settimana? Devo dire la verità, io adoro il sabato mattina, mi preparo il mio caffè. Vai a letto per guardare. Perché di nuovo io sono molto italiana in questo, mi piace il caffè fatto a modo. Sabato mattina bermi il mio caffè e prendermi tutto il tempo che voglio per leggere le news online, per fare catch up con podcast, per cui un inizio lento e il sabato mattina per me è... Fantastica. Ok. Se devi fare un consiglio di un book, di un libro, quale sarebbe quel libro lì? Soltanto... So che ne hai tante, ma devi fare uno. Allora. È un libro che ho iniziato a leggere e che non ho finito perché me lo sono dimenticato su di un aereo. Per cui è un consiglio ma devo finirlo. È un libro recente, devo vedere come si chiama, però è di fatto è un libro che spiega come ci siano le bias nascoste nel nostro mondo rispetto al genere femminile. Per cui di fatto ti spiega come il settore dei consumi, il settore dei servizi, di fatto è pensato per l'utente maschio e per come questi settori non coinvolgano veramente nel design delle cose la concezione che le donne sono geneticamente diverse dagli uomini e i servizi e le cose vanno studiate in maniera diversa per loro. Sai che è così vero che mi sembra che non so domani o dopo domani ho una persona che si chiama Enrico Banchi che è un altro amico anche socio mio in Italia e lui ha fatto uno studio del cervello femminile è incredibile è totalmente diverso è molto interessante è vero se non capisci che siamo diversi in certo modo è molto difficile sai per comunicare imparare dare lavoro è tutto è un'altra cosa e la ultima domanda cara Carlotta se devi dare un consiglio alla gente che ci ascolta in questi tempi di pandemia cosa direi? di rimanere positivi però secondo me è proprio in questi momenti che può succedere quella creatività quell'idea che cambia le carte in tavola e secondo me questi sono i momenti in cui gli imprenditori gli investitori devono essere più recettivi perché questo può essere il momento in cui vengono generate idee diverse il cosiddetto concetto del thinking outside of the box l'uomo per sua natura è una creatura abitudinaria veniamo posti in questo momento di fronte a delle nuove sfide che non ci sono mai state prima per cui il nostro cervello di sicuro cercherà in qualche modo di aggirare gli ostacoli con qualche idea qualche idea che può essere rivoluzionaria che può veramente generare la nuova scoperta di questo millennio e per cui questo può essere un grandissimo momento un incubatore di idee di di nuove stimoli per il genere umano secondo me non posso essere più d'accordo con te infatti per quella ragione che ho fatto questi video perché alla fine voglio per me tante volte la gente si è messo in una strada per il lavoro perché oggi è lunedì dopo domani martedì e vanno così non si fermano mai a pensare ma dove vado io questa è la vita che voglio allora secondo me questo è un momento molto particolare che può essere visto come un disastro o un momento dove il mondo ha fatto paus possiamo ripensare la nostra vita come dici tu guardare delle opportunità perché è tutto è un momento di cambio lo puoi fare tu puoi cercare anche diverse cose e per quello questa è conversazione perché voglio far vedere che tu che sei nata in un paese in Italia ce l'hai fatto c'è lavoro in mezzo ore che hai messo di lavoro e per esempio capire organizzazioni come il Rotary il tuo caso o gente io per esempio ho avuto tantissime persone bravissime che sono molto più furbi da me molto più vecchi da me che ho subito andare lì a imparare è un'altra cosa molto importante allora ho appena finito come ti ho detto prima una chiamata come il presidente Pastrana è incredibile parlare con un uomo così si impara in ogni parola lui che è andato verso il cartel di Medellin il cartel di Cali una cosa o l'altra e continua un'altra cosa che hai detto tu essere valiente essere come si dice italiano valiente essere valentia quando non hai paura sì appunto essere coraggioso coraggioso è incredibile ma è così importante non aver paura di sbagliare pensare che se sbaglio invece imparo perché è un altro modo di imparare e ricordare che un problema che hai nella tua vita non è quello che ti define quello che ti define è quello che fai di questo momento in avanti se hai avuto un problema una cosa che devi capire cosa puoi imparare da quella cosa lì ma subito mirare davanti mettere tutta la tua energia la tua positività e fare delle cose belle Carlotta ti voglio molto bene grazie mille per questa chiamata spero trovarci pronto può essere a Londra negli Stati Uniti o non so dove bacione grande be safe ok grazie Carlotta grazie mille Riccardo è stato un piacere ciao ciao